Da un modello di sviluppo predatorio ad un modello sostenibile, quello del 2 luglio è l'ultimo appuntamento della stagione con i webinar di Rati, che ha organizzato online dal lockdown alla fase della ripartenza una serie di incontri virtuali su temi di stretta attualità. Un percorso di analisi della situazione, dice il presidente Rati, Giovanni Di Fonzo, dai vari punti di vista, dall'economia e fino all'urbanistica. Dopo le ferie estive, Rati riprende con la nuova stagione di webinar dedicati alle proposte. Rati ha riflettuto nelle prime settimane di pandemia e ha immediatamente intuito che la profondità del cambiamento che si stava delineando era una cosa molto più seria di quanto venisse mediamente avvertita anche dall'opinione pubblica, che era più colpita dalla paura che non dalla riflessione. E quindi abbiamo deciso di mettere in piedi una serie di incontri online ricorrendo a specialisti che potessero avere la funzione principale di aiutare la comunità a comprendere quello che stava accadendo, gli effetti di questa pandemia sui vari settori della produzione, dell'economia, ma anche di quello che è tutto il comparto culturale, tutto quello che poteva emergere da quello che accadeva di settimana in settimana. Ovviamente tra le cose che questo fenomeno così profondo, ripeto, ha fatto emergere le profonde disuguaglianze sociali, perché questo? In che modo è venuto a manifestarsi? È venuto a manifestarsi perché per un verso di fronte al virus ci siamo presentati tutti uguali, però non in tutte le case la pandemia è stata vissuta allo stesso modo. Voglio fare solo due piccoli esempi. Il primo cos'è accaduto in certe case dove c'erano dei bambini, dei ragazzi che dovevano fare lezioni a distanza e non avevano nemmeno un computer adeguato a quello che era il bisogno. Oppure il padre di famiglia, comunque gli adulti della famiglia che erano impiegati solo in maniera precaria e che capivano che stavano perdendo l'occupazione e quindi il reddito. E allora di fronte al virus non è vero che eravamo tutti uguali. E allora di qui la necessità di non fermarsi a questo primo ciclo, ma di riprendere appena possibile dopo le ferie una serie di ulteriori approfondimenti e passare dall'analisi alla proposta. L'ultimo di questi appuntamenti, che ha un titolo molto emblematico, cioè dallo sviluppo predatorio allo sviluppo sostenibile, partendo da quella che è la vicenda urbanistica di come questo sia collegato a quello che è accaduto nella diffusione del coronavirus, passando e attraversando tutti i settori, nel senso che noi avremo prova con questi due illustri professori di capire come non solo il cambio è profondo, ma dobbiamo augurarci che questa pandemia sia davvero una cesura con tutto quello che non è accaduto, tutto quello che si è fatto di male, tutte le volte che abbiamo rinviato cose molto importanti. E invece noi pensiamo che addirittura vediamo in questo una speranza e lanciamo un appello al ceto medio, al ceto professionale, guardate, la crisi non riguarda solo gli operai precari o le piccole fabbriche che hanno problemi insormondabili, c'è il ceto professionale intero e dentro questa crisi. E invitiamo tutti alla resilienza, una reazione e pensare di maturare l'idea di lavorare in connessione l'uno all'altro, perché la soluzione la potremmo trovare solo in un lavoro comunitario e non più perseguendo da solo sul proprio personale e pensare di trovare una strada che ci porta in avanti. Questo è il nostro, diciamo così, appuntamento finale di un primo ciclo, ma anche l'annuncio di quello che vorremmo fare rivolgendosi agli ordini professionali, alle università, alle istituzioni, a maturare l'idea di un nuovo patto intercomprensoriale che abbracci tutta la provincia, che sia un patto territoriale, che sia un patto sociale, che sia un'attività che comprenda tutti perché tutti possono partecipare al rilancio su basi nuove di una nuova stagione.